Sono sei le persone positive su 865 tamponi riscontrate a Lucignano grazie a territori sicuri lo screening di massa che è arrivato nel comune della Valdichiana. Se si considera una popolazione di circa 3.500 persone, in questo comune si è arrivati a testare quasi un terzo della popolazione. Sì, sono contenta perché la popolazione ha capito, ha dato questa risposta veramente nei numeri, ci consola perché significa che c'è una consapevolezza che bisogna veramente tracciarsi, capire dove è arrivato il virus e cercare di isolarsi. Questo spero ci possa permettere magari nella settimana futura quell'avvenire anche di abbassare un pochino i numeri e cercare quindi di poter rimandare i nostri ragazzi a scuola se le condizioni generali lo consentiranno. Quello che preoccupa di più sono queste varianti che purtroppo attaccano proprio in una fascia di età dai giovani, giovanissimi. Sì, la chiusura della scuola una settimana fa è dovuta proprio a questo perché è stato riscontrato un caso di variante inglese all'interno di un ragazzo che frequentava le classi medie e naturalmente lì c'era stato proprio un focolaio perché quasi tutta la classe era positiva. E questo si è visto che ha fatto schizzare i numeri immediatamente quindi evidentemente c'è bisogno di misure di contenimento maggiori che sono sia la chiusura delle scuole ma io ho predisposto anche la chiusura di parchi e giardini perché purtroppo c'è tanta voglia di stare fuori e quindi volevo che passasse anche il messaggio che non andiamo a scuola ma non possiamo neanche stare a giocare nei giardini e nei parchi. Oggi il presidente Gianni sarà qui, questa è la sua seconda tappa toscana. Insomma com'è il confronto con la regione e poi c'è questo comitato anche che si occupa di decidere se mantenere aperto o chiuso le scuole? Devo dire che ci siamo sentiti costantemente con il presidente, c'è da parte sua e di tutto il suo staff un sostegno importante ai comuni anche a quelli piccoli come il nostro ci fornisce numeri, questo sia il presidente che il direttore d'Urso e ci fa quindi fare delle valutazioni anche a noi con numeri alla base che sono di natura quindi oggettiva. Credo che sia anche importante fare queste chiusure mirate per poter permettere però da una parte all'attività di continuare a lavorare e magari di tenere comunque tutta la Toscana poi in una zona che possa rimanere arancione perché quella rossa magari sarebbe un altro duro colpo alla nostra economia.